Maricetta Chimisso, un gesto, quello delle dimissioni dalla vice segreteria regionale del Partito Democratico e dal vertice del circolo di Termoli, è stato ripreso anche a livello nazionale, ma perché? Si arriva a un certo punto in cui le decisioni, anche se dolorose, diventano indifferibili. Questa era diventata indifferibile per me. Le motivazioni sono sempre di carattere politico, ma è personale. Sarebbe mio per affermare una cosa del genere. Perché la politica ci chiama in causa dal punto di vista personale. Però è chiaro che poi quello a cui si guarda è la squadra e il partito è l'interesse del partito. Quindi le motivazioni sono intensamente politiche. Superano di gran lunga quelle personali. Sarebbe molto scorretto, miope e grave per i miei ex compagni di partito. Per me questa fase è una fase conclusa, ma la concludo con l'augurio che ho dato al segretario Facciola in occasione del suo cinquantesimo compleanno, augurandogli un decennio di felicità.